C'è un change perché pensavamo che dopo qualche anno in cui avevamo ottenuto risultati importanti, abbiamo voluto cambiare, perché ogni tanto è giusto fare anche questo, abbiamo voluto cambiare e abbiamo cambiato tante cose. Buonasera, è una vincere e a me piace vincere, quindi ho pensato che il mio modo per vincere, visto che io non scendo in campo, è quello di costruire ogni anno qualche cosa di diverso e di più incentivante per voi, ovviamente. Ci crediamo, ci crediamo veramente e abbiamo un progetto nuovo per quelli, non si è mai fatto, io lo so perché c'ero quando ero giovane qui, nelle attività giovanili, quindi mi ricordo come veniva fatto. Il progetto è nuovo perché investe sui singoli individui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.